La Amblin Entertainment e Steven Spielberg vi presentano la storia di Cecilia, una bambina molto sola. Piango per i miei genitori, non stanno mai insieme a me. E di Lewis, che ha lasciato la sua famiglia in cerca di avventure. Voglio unirmi a uccidermi. Accidenti! Un uomo venuto dal futuro li sta osservando. Salve amici, sono il capitano Occhidolci. Per realizzare i desideri della gente ho inventato questa. La radio dei desideri. Vorrei, vorrei, vorrei avere un amico. E manderai il loro aiuto? Vogliono proprio voi. Cosa ne dico? Degli amici provenienti dalla preistoria. Dico che accettiamo. Addio amici miei, accettatevi, non calpestare nessuno. Siete diventati ma... Benvenuti a New York! Si può sapere cosa siete? Siamo dinosauri, cari. Dinosauri, eh? In effetti l'aspetto è quello. Molto piacere. Sono Cecilia, il piacere è tutto mio. Un'avventura unica al mondo. Pattenza in grattaccialo! Ai limiti dell'infredibile. Che vi lascerà senza piatto. E vi farà conoscere nuovi amici. Lì, andiamo lì! Ma il professor Sguercio... Quel cattivone per un occhio solo. Ma progetti malvagi. Il circo centrico del professor Sguercio. Ecco il contratto. Vogliamo firmare? Vi presento le più terribili criature infernale! Ti prego, fa che non accada niente di male. Appoggia il dito sul contratto! Lui! Dove vai? Sei matta? Ucciderà anche te! Io sono il signore del ferro! Quest'uomo è un pazzo. Quattro dinosauri a New York. Sapete dov'è il centrocco? Via, via! Dormi, ho fatto qualcosa di sbagliato. No! Sei stato fantastico!